Che meraviglia! Siamo ritornati in quel momento dell'anno in cui fa un caldo micidiale. La meravigliosa, fantomatica estate italiana che i turisti americani non vedono allora di vivere ai sudari e ai più confini del nostro paese. Dal canto mio, il mio subconscio ogni anno decide che dobbiamo leggere qualcosa di criminale. Un crime, un giallo, un noir, un nero, un arboio, un thriller, un thrillerone, un thrilleraccio. Io non me ne rendo mai conto, ma lui fa sempre un ottimo lavoro e mi scova fuori qualcosa. Devo dire che la scelta di quest'anno mi ha davvero conquistata e mi sembra un'ottima lettura da fare durante l'estate. Con anche quel quid che lascia qualcosa dietro. E quindi vi voglio parlare oggi di tanti piccoli fuochi di Celeste Ng. Pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri, vediamo in quanto ho poco tempo per scordare tutte le informazioni bibliografiche. Nel 2018, in America è uscita nel 2017, la traduzione di Manuela Fai Mari. Prima di cominciare un po' a raccontarvi dell'autrice, della trama, di dirvi cosa ne pensa riguardo, vi voglio spiegare perché secondo me questo libro è perfetto come lettura estiva. Da consumarsi in un lampo, sotto l'ombrellone, al mare, in montagna o per chi rimane in città, a schiattare di caldo con i propri vecchi. Lo apri, lo sfogli, ci sono un po' di stereotipi, c'è la provincia americana, tutta l'idea perfetta, ma che in realtà nasconde i segreti amorposetti, poi per avanti decine, se non centinaia di pagine, e in un paio di giorni l'hai finito. Quindi ottimo per chi ha un po' di blocco del lettore, per chi vuole qualcosa di davvero appassionante da leggere sotto l'ombrellone senza toppe patturni. Ma io non voglio un trilione che me lo butto giù tutto d'un fiato, scopre che è l'assassino e poi me lo dimentico. Ce lo consiglio comunque perché la ciccia c'è ed è ciccia contemporanea e carne viva degli Stati Uniti che vanno a fuoco, non solo nel titolo, non solo nell'apertura del romanzo, ma anche nell'America del 2020. Confessione, io amo da morire i libri che hanno un titolo che viene spiegato all'inizio o alla fine proprio nell'ultima riga, l'ultima pagina, l'ultima parola. Questo è il primo caso perché tanti piccoli fuochi si apre con una casa, un'enorme bellissima villa che va a fuoco. Ma non è che sia stato un cortocircuito, c'è stato qualcosa che non è un incidente, è stato proprio un incendio doloso partito da tutti i letti dei componenti della famiglia su cui sono stati accesi appunto tanti piccoli fuochi. C'è questo incendio, c'è già diciamo una persona che è sospettata, ma poi c'è tutto il libro e twist. No. Il mistero viene esplorato sì, ma non è un mistero, sappiamo già più o meno tutto quello che è successo. Il punto è l'innesco, cosa ha fatto partire tutta questa serie di vicende che poi ha portato il colpevole a accendere questi tanti piccoli fuochi. Funziona tutto a Shaker Heights, non tanto perché sia appunto tipo Wisteria Lane in Desperate Housewife, tutto questo posto carino, perfetto, ma perché i pianificatori della città l'hanno proprio pensata per essere costruita a misura di statunitense, statunitense ambiente bianco che non vuole vedere per esempio la spazzatura per strada o si dà per scontato si muoverà in macchina. È una dimensione perfetta di questo tipo i cui limiti vengono messi in risalto all'arrivo ovviamente dell'estraneo, della persona che viene fuori dalla città, dal diverso. In questo caso una coppia formata da madre singola artista e figlia molto intelligente ma un po' timida che si chiamano Mia e Pearl. Nota bene il romanzo non dice mai che le due sono afroamericane, non ne dà una descrizione ogni tanto se parla dei capelli di Pearl, finita lì. Ma noi ne siamo coscienti sin dalla prima riga in cui vengono nominate, perché si capisce che in un certo qual modo appartengono a una realtà altra, non perché a Shake and Ride non ci siano altri afroamericani, ma perché la loro concezione di vita, i loro valori, il loro modo di vivere è completamente diverso da questa provincia che rappresenta un certo tipo d'America. E di fatto il libro si fonda sul contrasto tra queste due visioni, quella diciamo del sogno americano anche un po' anni 50, ma rivisto in chiave liberal, democratica, se fosse stato possibile avrei votato Obama per la terza volta, e un sogno americano vissuto in maniera, non per forza dal punto di vista della minoranza, perché poi il fatto che le due siano afroamericani o che comunque non vengano da un contesto avviente è importante fino a un certo punto. È proprio una mentalità completamente diversa. Quello che è interessante e che funziona in Tanti piccoli fuochi sono le donne. Di fatto è un romanzo in cui le figure maschili sono rarefatte, sia per numero sia per incisività sulla trama. Tanti piccoli fuochi si evolve insieme al rapporto tra Mia e Mrs. Richardson. All'inizio la loro relazione è proprio dettata dai loro ruoli, cioè la ricca Mrs. Richardson affitta, perché è generosa, la casa a quest'artista un po' bohemian con la figlia. La figlia stinge amicizia con uno dei suoi figli, i mudi, comincia a frequentare casa sua e lei è molto aperta, molto generosa, le consente di fare esperienze con i suoi figli. L'ha fatta come un'amica, come una persona intelligente, fa capire che le piace che Pearl stia in casa sua e entra in contatto con i suoi figli. D'altronde, anche se Pearl è l'afroamericana, una dei suoi figli, Lexi, è fidanzata con un ragazzo afroamericano, quindi non sembrano esserci problemi di razzismo o discriminazioni classiste. Anche se Mia, che è un po' più scafata della figlia, percepisce nel modo di fare amici di Mrs. Richardson dei punti d'ombra o comunque dei preconcetti. Per esempio, quando va a trovarla a casa, comincia a guardare dietro le spalle per vedere se lei per caso le ha distrutto la casa che le ha affittato. A un certo punto, Mia è molto preoccupata, perché sua figlia, Pearl, passando così tanto tempo dai Richardson, sta un po' assumendo il loro punto di vista, o comunque innamorandosi di questa vita bianca, stabile, con radice americana. e ha un conflitto, perché da una parte lei si vuole fermare in questo paese perché vuole che finalmente Pearl abbia una vita, virgolette, normale. Dall'altra però ha paura che la ragazza rimanga influenzata dalla facciata tutta all'ustrina e non capisca quale sia il peso, il prezzo da pagare per una vita del genere. Questa è la componente principale del romanzo, che in realtà ha una sorta di seconda linea narrativa che deriva a sua volta da una storia breve ed è come se fossero quasi due romanzi, uno molto più breve e contenuto, all'interno di quello più grande. I due romanzi hanno esattamente la stessa tematica, cioè il confronto tra l'immagine bianca americana, vincente, con radici, senza nulla da nascondere, con tanti figli, con un'impostazione borghese e tutti quelli che vivono in America ma questa impostazione non ce l'hanno e che sembrano vivere bene in questa realtà finché non reclamano il proprio spazio o il loro modo di vivere attraverso delle regole che non aderiscono allo status quo non comincia a dare fastidio a questa immagine americana bianca e ricca. Oltre a Mia c'è un altro personaggio, Bebe, che è piuttosto interessante e secondo me è protagonista della parte più riuscita di tutto il romanzo. Bebe è un'immigrata cinese, arrivate negli Stati Uniti con un sogno che si è rapidamente infranto, che si ritrova in una situazione drammatica, è incinta, ha una bambina, è sola, pochi soldi e decide di abbandonarla. Poco dopo ci ripensa, riesce a ritrovare la sua bambina che è stata data in adozione a una ricca coppia che vive a Shaker Heights. E da qui si scatena un processo mediatico e giudiziario per capire di chi sia questa bambina, che suona un po' male ma è un po' al centro del racconto. Si capisce che Celeste Ng sa di cosa sta parlando. Lei ha raccontato di essere rimasta ispirata da un articolo che le ha girato una sua amica ai tempi del college, se non ricordo male, in cui si parlava di queste adozioni interraziali delle coppie statunitensi che adottano bambini cinesi e c'era questa madre che sosteneva che avrebbe fatto in modo che la bimba mantenesse la ricicola a Cina, per esempio preferendo un peluccio a forma di diossetto o una forma di panda. Si va molto più in là di dire, non so, la bambina crescerà meglio con una famiglia ricca o la bambina crescerà bene con sua madre. Si evidenzia un problema che soluzioni non ha in maniera molto profonda guardando dietro l'ipocrisia di entrambi i fronti e la difficoltà di poi trovare una soluzione che non solo faccia bene alla bambina ma tenga a cuore il dolore che hanno provato tutti chi è madre fisica e chi ha sempre voluto diventarlo. Se Mrs. Richardson è presentata come una figura di donna e di madre tradizionale, quindi con la sua famiglia e i suoi figli che tutela il benessere del suo nucleo familiare, del suo nucleo di amicizia e della sua città, mi è presentata un po' come una figura matriarcale, matronale, di tempi antichi e remoti, una figura che attira intorno a sé altre donne, le aiuta e crea una sorta di clan, cioè non è così ancestrale, però diciamo il risultato è quello. E lei in sé è una figura particolare, per esempio ho adorato il fatto che diventi, senza essere troppo insistita, un ottimo esempio di una figura che vive una vita asessuale, nel senso proprio del termine di persona non interessata al convergimento fisico, in questo caso anche amoroso, ed è ritratta benissimo, on point, 100 punti. Mi è spiaciuto che verso la fine sia un po' troppo virato sul però mia è tanto buona, riesci a vedere nella tua vera anima di tutta la gente e tutti i Richardson sono un po' stronzi. Di fatto alcuni di loro lo sono, però diciamo che se fino a lì tutta la fluida in maniera molto naturale, molto coerente, è un po' troppo costretto. Faccio un esempio senza fare spoiler, il personaggio di Moody, che è sempre stato considerato simpatetico, in grado di capire la sofferenza delle persone, di vedere nella diversità una ricchezza e lui a difendere Izzy, la sua sorella un po' peculiare, diventa improvvisamente, come posso dire, negativo, senza rivalutazione, sulla base di una gelosia che forse è un po' troppo esasperata. E la stessa Izzy, che è un personaggio molto particolare, perché in realtà somiglia a entrambe le donne protagoniste, cioè è figlia di Mrs. Richardson e soffra perché non si rende conto di quanto somiglia la madre, però ha la stessa scintilla di Mia. Ecco, fino a un certo punto è molto equilibrato, perché lei è molto eroina, fa la cosa giusta, anche se poi viene giudicata male, ma è anche molto infantile in come lo fa. C'è un punto del romanzo in cui si parla di una sua compagna in scuola, in cui persino lei non si rende conto di avere del razzismo, o comunque del white severism, insito in sé, di salvare la povera studentessa nera, così magari diventiamo amiche. solo che un po' si perde verso il finale quando l'autrice ha proprio sta fissa di dividere buoni e cattivi. Ho trovato anche un filino esagerato che capisco che lei abbia potuto capire l'anima di Itzi, l'anima di Lexi, però quando ha capito l'anima di tutti quelli e ha saputo renderla in foto anche un pochino troppo. Tutto sommato però è un gran bel romanzo, non è così epocale, così strepitoso, però molto soddisfacente lettura, anche dopo è molto gradevole da leggere, lo consiglierei per esempio per un gruppo di lettura, è un romanzo molto bello sul rapporto materno, sulla madre che hai, che odi, la madre che vorresti, la madre che ti fai in una relazione anche se non è tua madre di sangue e l'immagine della madre che devi distruggere per costruire la tua. Sotto questo punto di vista davvero fantastico. È così soddisfacente che non mi viene voglia di vedere la serie tv, non so se sia buona o cattiva, non sono andata a indagare e si conclude qui la mia recensione, spero che vi sia stata utile, vi abbia incuriosito, divertito anche se non siete necessariamente d'accordo con me. Se avrete voglia di avere altri consigli di lettura da parte della sottoscritta vi basta iscrivervi al canale, seguirmi su varie social che trovate i linkati in descrizione altrimenti vi auguro buone letture e buone estate. A presto! Olè! vediamo che verso super tardissimo! mamma! ci Within fall estoy us olar Grazie a tutti.